Tadej Pogacar, Tadej Pogacar, Tadej Pogacar Veramente incredibile quello che è successo quest'oggi Classifica rigirata completamente Non solo per quanto riguarda la prima posizione ma in generale tantissimi cambi in top 10 Veramente una delle tappe più belle che io abbia mai visto Una delle corse più emozionanti, divertenti da vedere Che io abbia mai visto nel ciclismo Che è uno sport veramente bellissimo Pieno di colpi di scena e quest'oggi l'abbiamo avuti tutti Questo tour che non ce l'ha dato magari grandissime emozioni rispetto ad altri grandi giri Ma ce l'ha date tutte quest'oggi Quest'oggi ha ripagato veramente 2-3 settimane di tour Con uno spettacolo veramente incredibile E la prestazione di Tadej Pogacar, 21 anni Quest'oggi è stata incredibile Una delle prestazioni migliori nel mondo del ciclismo Almeno di quello che ho visto Veramente incredibile quello che ha fatto quest'oggi Una cosa inaspettata perché nessuno avrebbe mai pensato Nessuno avrebbe mai pensato una cosa del genere Veramente incredibile quello che ha fatto il 21enne sloveno della UAE Tadej Pogacar Buon pomeriggio a tutti amici a passaggio di sport Ben ritrovati su Mollerino Sport Channel Io vi do il benvenuto in questo video Sulla ventesima frazione, la penultima Di questo Tour de France 2020 Prima della passarelle di Parigi Una cronometro individuale di oltre 30 km Con arrivo in cima alla planche dei bel figli Una salita durissima di 6 km all'8,3% di pendenza media Con un muro finale che raggiungeva anche il 20-22% Veramente una salita durissima Una salita ripetuta tantissime volte in questo Tour de France Soprattutto negli ultimi anni Una salita veramente molto molto bella Che ci ha dato veramente delle emozioni fantastiche Io veramente mi veniva da piangere È stato incredibile quello che abbiamo visto quest'oggi Primo riferimento importante che arriva dal campione francese Rémy Cavagnat Che fa appunto registrare un bellissimo tempo Che rimane il primo tempo per praticamente un paio d'ore Fino all'arrivo di Wood Van Aert Wood Van Aert che anche lui fa una crono veramente spettacolare Nella prima parte in pianura diciamo si trattiene Infatti al primo intermedio dopo 14 km Era 39 secondi dietro Cavagnat E alla fine l'arrivo è arrivato praticamente con 30 secondi di vantaggio Quindi veramente gli ha guadagnato tantissimo Ha fatto il cambio bici Che in questo appunto quest'oggi Il cambio bici prima della salita era fondamentale Veramente si è visto anche Tom Dumoulin Che comunque ha superato Van Aert Ma sulla salita ha perso una quarantina e cinquantina di secondi In teoria Dumoulin rispetto a Van Aert dovrebbe scalare meglio Però veramente il fatto di avere la bici normale Invece di avere quella da cronometro Sulla planche delle fila ha fatto veramente grandissima differenza E quindi tutti gli uomini di classifica poi hanno optato per il cambio bici Appunto Tom Dumoulin che riesce a superare appunto Van Aert Con il tempo incredibile di Ricci Port Ricci Port, Ricci Che riesce a registrare lo stesso tempo di Tom Dumoulin Riuscendo a salire sul podio Finalmente, finalmente ce l'ha fatta Ricci Port che è stato sempre perseguitato dalla sfiga Con cadute, infortuni Veramente molto molto sfortunato Ricci Port Finalmente ce l'ha fatta salire sul podio del Tour de France Veramente grandissima prestazione per l'Australiano del Trax e Gafredo E poi arrivano i due sloveni I due sloveni con un testa a testa bellissimo Con Tadej Pogacar che ha fatto una cosa incredibile 55 minuti e 55 secondi A 38,84 km all'ora di media Nonostante l'arrivo in salita 16 minuti e 10 Per percorrere i 6 km Della Plage des Belfilles Veramente una prestazione incredibile Io sono curioso Sono troppo curioso di vedere I watt pro chilo Appunto sviluppati da Pogacar Che aveva Io non ho parole, è incredibile Mentre Primoz Roglic Era visibilmente affaticato Ha fatto veramente una fatica assurda quest'oggi Lo sappiamo che la tenuta Sulle tre settimane di Primoz Roglic È sempre un po' in incognita Nella terza settimana Arriva sempre a perdere qualcosina Ma chi se lo aspettava che Primoz Roglic Che due anni fa è stato appunto Medaglia ai mondiali a crono Primoz Roglic che ha vinto non so quante crono Che aveva 57 secondi di vantaggio 57 secondi di vantaggio Sono tantissimi nel ciclismo di oggi Su Tadej Pogacar Beh tantissimi no Però sono tanti Nel ciclismo di oggi Era recuperare in una tappa E in teoria Sulla carta sembrava essere più forte Ma Tadej Pogacar veramente L'ha rigirata completamente In una parola Tadej Pogacar che appunto va a vincere Con un minuto e ventuno Su Dumoulin e Ricciport Un minuto e trentuno Su Wood Van Aert Che comunque anche Wood Van Aert Vince le volate In una cronometra con crono scalata Arriva quarto Cioè Van Aert Eh non ho parole Adesso ai mondiali di Imola Non so cosa possa combinare veramente Sono star curioso di vedere cosa potrà fare Solamente quinto Primo Aztroglic A un minuto e cinquantasei Un minuto e cinquantasei Data Dej Pogacar Poi Remy Cavagnà A un e cinquantanove Ottima prestazione anche per lui Grandissimo Damiano Caruso Damiano Caruso Settimo A due minuti e ventinove Che riesce finalmente a entrare in top ten Prima top ten per lui al Tour de France Veramente grandissimo Carusone Grandissimo Damianone Grandissima prestazione Poi De La Cruz Anche lui bravissimo Ottima crono Ottava a due quaranta Chiudono la top ten Enric Mas Per lui anche lui Un'ottima prestazione in questo Tour de France A due minuti e quarantacinque E poi Rigouran Conclude la top ten A due minuti e cinquantaquattro Per quanto riguarda la classifica generale Vittoria appunto Per Tadej Pogacar Che vince Questo Tour de France Doppietta slovena Con la seconda posizione Di Roglic Che veramente sarà Delusissimo Dopo questa tappa Nessuno se lo sarebbe mai aspettato Anche Dumoulin e Van Aert Che guardavano con faccia veramente Attonita L'arrivo di Pogacar Sia perché Appunto avrebbe tolto la vittoria A Dumoulin Ma penso che gliene fregasse Poco Sinceramente Della vittoria di Dumoulin Perché Gli occhi erano tutti puntati Sul loro capitano Roglic Che sta veramente Faticando tantissimo Seconda posizione appunto Per Roglic A cinquantanove secondi Ricci Port Sul podio A tre minuti e trenta Landa Cinque e cinquantotto Quarta posizione Buona prestazione Per lui Eric Mass Eric Mass Una grandissima sorpresa Io non me la sarei mai Aspettato di vederlo così È un corridore Che non mi piace molto Pensavo che appunto Il suo podio Alla Vuelta Due anni fa Fosse un exploit Destinato a non ripetersi Ma questo Tour de France Quest'anno Veramente È andato molto molto forte Soprattutto nella terza settimana E chiude appunto In quinta posizione Meritatissima A sei minuti e zero sette Disastro Disastro Completo Di Miguel Angel Lopez Che perde tre posizioni E chiude a sei minuti e quarantasette Ha perso qualcosa come Quattro minuti e mezzo Da Pogaccia Addirittura cinque In questa crona Veramente Disastro Del capitano Astana Veramente Disastro Di Miguel Angel Lopez Ottima prestazione Di Tom Dumoulin Che recupera due posizioni E chiude appunto In ottava posizione A sette minuti e quarantotto In settima posizione Scusate A sette minuti e quarantotto Segue Rigoberto Uran Che resta nella posizione Appunto Che aveva inizio tappa A otto minuti e zero due Male Adam Yates Che perde due posizioni Si ritrova a nove minuti e venticinque E appunto A chiudere la top ten Il nostro Damiano Caruso A quattordici minuti E zero tre Con appunto Valverde Che è andato in grosse difficoltà Ha perso tantissimo E' stato Penso passato anche Da Guillaume Martin Che penso abbia chiuso In undicina posizione Mentre Valverde In dodicesima posizione Ricordiamo che Caruso e Valverde Erano separati da 20 secondi Ma appunto Praticamente ininfluenti Perché Caruso Veramente Ha fatto una grandissima crono Mentre Valverde Parecchio deludente Per quanto mi riguarda In questa crono Quindi Direi che per questo video è tutto Vi invito a lasciare un commento Ditemi cosa ne pensate Di questa tappa Veramente Bellissima Mi piace Iscrivetevi Seguiteci Anche sulla nostra Pagina Instagram E noi ci vediamo A un prossimo Video Con appunto La tappa di domani Nel frattempo ci sarà anche serie A Tanto altro ancora Insomma Rimanete sintonizzati Per nuovi video Scrivetevi al nostro canale